Diamo! Diamo cazzo! Diamo ragazzi! Avevo le lacrime agli occhi! Avevo le lacrime agli occhi! Ma che lazio! Ma che lazio! Ragazzi scrivetemi nei commenti da quanto aspettate una notte così! Perché questo vale tutto! Battere la Juve dopo anni sei in lotta per lo scudetto! Sei in zona scudetto non me ne frego un cazzo! Chi dice che non lo vinceremo? Chi dice che siamo scarsi? Perché si dice che... Perché rosicano tutti! Perché questa squadra, vedere giocare questa squadra è bellissimo cazzo! È bellissimo! 11 leoni dal primo all'ultimo uno stadio fantastico! Una coreografia fantastica che solo la tifosera della Lazio fa! Mi dispiace tantissimo di non essere stato allo stadio! Dovevo andarci ma purtroppo per lavoro, per questioni anche economiche! Perché a me andare a vedere un Juve Lazio mi costa 200 e passa euro! Tra viaggio è tutto però ragazzi! C'ho un sorriso a 64 denti! C'è fantastico! Che emozione! Perché tu vai sotto e quando vai sotto io sapevo, avevo sensazioni positive! Chi mi ha chiesto il pronostico su Instagram stavolta non l'ho fatto! Ho detto non faccio pronostico sulla Lazio scusate che qua se no evaporo! E appunto però dopo siamo partiti bene! Abbiamo giocato con personalità giacca di merda! Levati! E poi passi svantaggio e un tifoso molto emotivo come me impulsivo di! C'è il solito Juve Lazio, la sua Juve che la Lazio magari gioca bene come al solito tutti gli anni con la Juve fa buone partiti e poi alla fine prende gol e va un po' tra virgolette in depressione, in difficoltà mentale, psicologica invece no! Cioè tu dopo l'1 a 0 hai tirato fuori il meglio di te stesso! Perché a me la Juve questa è sembrata nei primi minuti la migliore Juve della stagione come quella Milano con l'Inter! Perché la Juve nelle parti importanti fa la Juve! Ma tu sei stato superiore! Ma nettamente alla Juve! Ma qualità qualitativamente! C'è la cosa straordinaria che tutta Italia deve finalmente, io spero che anche i giornali di merda, la RA, i Mediaset parli finalmente della Lazio! Perché la Lazio non è che ha giocato meglio della Juve! No! Proprio qualitativamente la Lazio possiamo dirlo! Questa Lazio è più forte della Juventus! Qualitativamente! Ok? Tecnicamente non sto dicendo che è più forte lui! Ma a centrocampo ragazzi io... è nettamente la squadra più forte d'Italia a centrocampo e la Lazio notate quanti... è la squadra che ha più giocatori che saltano l'uomo! Che creano superiorità numerica! Perché Lazari salta l'uomo! Milingo salta l'uomo! Corea lo salta! Immobile lo salta! E lo salta anche l'Ulice! Il tanto criticato lui lo salta anche... cioè è veramente fantastico! Comunque la cronaca della partita è stata una partita combattuta fin dei primi minuti! E io ho visto la faccia di Ciri Immobile i primi minuti e ho capito subito che Immobile era in difficoltà! Immobile soffre la Juventus però ha fatto una partita lo stesso fantastica! Ciri Immobile ha sveletto rigore poi ci arriviamo! Comunque la Juve passa in vantaggio con un'azione bellissima! Ronaldo oggi tanto criticato da me! Oggi era in forma! Però sapete qual è il problema di Ronaldo? Che sta facendo notizia quando segna su azione! È incredibile questa cosa se voi ci pensate! Un abituato a fare 40 gol a stagione ora fa notizia quando non segna su rigore! Pensateci un attimo! Una cosa... cioè veramente che dobbiamo rifletterci! O soprattutto i tifosi giuventini devono rifletterci! Scusate ragazzi sto leggermente appunto sputtando qualcosina! E la Lazio reagisce pareggia su un'azione che prima c'era un rigore dubbio che secondo me c'era almeno a me sembrava ci fosse su Lucas Leiva però meglio così perché noi siamo più forti degli errori! La storia della Lazio noi tifosi l'abbiamo sempre dimostrato noi siamo più forti dell'avversità perché io se dalla Liguria ho scelto di tifare a Lazio se stasera vado in un pub che su 50 persone quant'era che c'era l'unico laziale sono io un motivo c'è ok perché noi abbiamo qualcosa di speciale noi vogliamo uscire fuori dal sistema ok troppo facile tifare Juve Milan beh Milan quest'anno va male però storicamente Inter no Roma anche troppo più facile a Lazio vuol dire coraggio vuol dire perdere col Chievo già retrocesso l'anno scorso vuol dire perdere 4 a 0 a Siena con doppietta di destro tanto per dirne due e poi però vuol dire vivere queste notti che resteranno nella storia della Lazio e soprattutto qua impresso io tra due anni vedrò questo video detto io ho vissuto questa notte peccato non allo stadio ma rimarrà impressa qua dentro una cosa bellissima c'è questo veramente una forse una delle vittorie più belle della mia vita appunto da Laziale ok io non ho vissuto la Lazio e lo Scudetto ma fa niente ho vissuto la Lazio di immobile lo scordinato a correre di Lulice lo scarpone di Caicedo l'inqualificabile che alcuni l'hanno definito così però una Lazio che è in lotta per lo Scudetto ok c'è 10 vittorie tra Parigi e 2 sconfitte anni fa voleva dire questo cammino voleva dire essere primi adesso con un interview fantastici perché dobbiamo sempre dare merito anche agli altri noi siamo comunque terzi a tre punti dalla Juve a 5 dall'Inter una cosa del genere però è bellissimo comunque ripeto troviamo il pareggio con Luis Felipe che aveva sbagliato sul primo gol e poi fa un gol straordinario bravo Luis Felipe anche lui contento contento un giovane comunque viene dalla Lazio non italiano brasiliano che è in crescendo l'anno scorso già si vedevano le qualità già un po già due anni fa però io dicevo questo ragazzo non è ancora deve crescere in questa Lazio è più facile crescere scusate mi hanno chiamato durante il video comunque è in una squadra così anche più facile crescere e poi secondo tempo tu sei sceso in campo con la sicurezza mentale bravo anche Inzaghi finalmente Forrest sta facendo il salto di qualità bravo Inzaghi veramente a dire a questa squadra gioca fai tu la partita andiamola vincere perché non è perché alcuni i giuventini anche dovero ma hanno detto eh la Juve scontempo non ha giocato no no siamo scesi in campo noi siamo scesi in campo la qualità superiore della Lazio perché io quando vedo Milinkovi Savic fare quel gol ragazzi questo è calcio non è Ronaldo che quando ha due uomini mi fa la finta e poi la passa indietro quello non è calcio il calcio Milinkovi Savic che già nel primo tempo ha fatto una giocata del genere controllo orientato già subito al tiro cioè questo vuol dire che un giocatore come valore assoluto il più forte della Lazio poi discontinuo ma se non fosse discontinuo sarebbe il giocatore più forte del mondo ok però questo è calcio lo stop è il tiro di sinistro c'è fantastico Milinkovi Savic ha fatto una partita una partita da dieci Milinkovi Savic è salito in cattedra è qua che si vedono i grandi giocatori poi Correa che si guadagna a rigore lo sbaglio Immobile e Immobile fa tenerezza fa tenerezza perché alcuni diranno eh nelle parti importanti non segna è vero sarà vero io non lo so neanche Immobile l'ha sofferta questa partita ci mancherebbe però quanta occasione ha creato Immobile una sola partita ok insieme agli attaccanti della Juve non l'hanno creata non hanno creata l'occasione che ha creato Immobile una partita di palloni che ha toccato la grinta quindi a me Immobile piace anche così che sbaglia a rigore che va sulla ribattuta ci prova di cattiveri e scendere la para di di pancia non so però a me va bene lo stesso Immobile e Immobile è quello che sbaglia a rigore dopo un minuto ne salta tre tra un po' se ne guadagna un altro questo è ciro Immobile ok e rappresenta la lazialità esce tra gli applausi tra i fischi della Juve questa partita è stata una densità di emozioni secondo me veramente contrastanti fantastica e poi arriva il 3 a 1 mi sembra lancio di Lulici lì ero già un attimo in euforia Juve che comunque c'è stata anche l'esposizione di quadrato giusto ma Juve che nel secondo tempo non ha fatto niente l'unico tir è stato un errore nostro di Stracoscia il tanto critica Stacoscia che sbaglia con i piedi però ragazzi io davanti alla po' tra i pali e io forse il portiere non lo so è fortissimo cioè è fortissimo adesso io sono preso all'euforia a dire che il portiere è più forte del mondo però a parte gli scherzi Stracoscia tra i pali è fortissimo dite quello che volete ma Stracoscia tra i pali è fortissimo e arriva poi il 3 a 1 e anche qui Lazzari molto molto Lazzari molto Lazzari cioè Lazzari ha fatto una partita forse tra i migliori anche lui tra i tre migliori io metterei Milinkovic Lazzari poi il terzo ci pensiamo domani domani poi facciamo le pagelle e tanti altri video però Lazzari è fantastico un giocatore dalla spalla un giocatore che non ha più 20 anni 26 quindi è arrivato alla Lazio comunque non dico già vecchio però voglio dire fa tenerezza un giocatore che era in serie C qualche anno fa e adesso è tra un po' il primo in campionato cioè Lazzari fantastico tira con quella timidezza no perché dice io non posso fare gol mi chiamo Manuel Lazzari tira la parra arriva Caicedo 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 quello che l'abbiamo pagato 3 milioni quello che ha segnato in un derby quello che ha segnato con la Juve quello che c'è io chiudo qua il video perché mi metto a piangere veramente vedete l'emozione non c'è bisogno di dirlo io ragazzi condividete il video vi amo tutti ciao ciao